PEGI 18 Flash è vivo e fa squadra con Brainiac Sapete cosa fare Uccidete Flash o vi ucciderò io Ok, ok Vai in zona! Arriva il volo! Niente può fermarmi Arrasso! Sono un fulmine! L'hai preso? Sul serio? Più letto di cos'è si muore Vedo tutto dall'alto Me ne occupo io, squadra Polveri Chi ne vuole ancora? Tuffa, tuffa la pazza! Oh, sì! Ti aiuto io, squadetto bello! Non si sfuggia la mia furia! Volete vedere cosa sa fare un vero eroe? Ve lo mostro! E va bene! Rozzo! Pensavo ci avrebbe fregato a sto giro! A20 Sì! 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 Sì!